Dove vedi questa cattiveria? Questa cattiveria morbida, quando avversario senti che tu vai a prendere la sua anima. Sai? Però fai questo in un modo di boa, di un serpente. Capisci? Lui ti spinge e tu sei rilassato come un maglietto. Capisci? E vai, vai a prendere la sua anima. Adesso vado a prendere la sua anima. Capisci? 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 chisco chiuslà Chiasi, chiasi, c'è un discurito qui amava il muro era bello? si ecco lì si prese era giusto avendo preso devi spogare ho provato eh devi spogare hai sentito questo senso di quando di sopravvivenza quando lui anche per me come voglio sopravvivere giusto quando sopravvivenza deve deve essere molto più morbido, piano deve essere molto più attivo, furbo e così diciamo agganci questi liberi qui agganci questi liberi qui passo passo ancora? ancora però sfidiamo quando quando prendi colpo unico che devi pensare attaccarti attacca meno molto più vicino guarda braccio deve essere attaccato corpo deve essere attaccato avversario avvicinato questo è un quale guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.